Guardi, è una risposta molto semplice questa. Io l'Italia la schiero con l'Italia. Cioè, la schiero dove sta l'interesse nazionale e sono fiera che sia finita la stagione nella quale l'Italia viene schierata dove interessa al PD. Sono fiera che quella stagione sia finita. La schiero con l'Italia e dico di più, la schiero anche con l'Europa perché io penso che avere il coraggio di fare delle valutazioni su cosa si possa fare meglio, su cosa non abbia funzionato e fare delle proposte sia l'atteggiamento che dovrebbero tenere coloro che vogliono migliorare il processo di integrazione europea, migliorare il ruolo dell'Europa. Poi si può non essere d'accordo su quali siano gli strumenti per farlo e noi con molti non siamo d'accordo, ma stabilire che chi fa delle critiche è nemico dell'Europa e chi invece mette la sabbia sotto il tappeto e fa finta di non vedere quello che sta accadendo è l'amico dell'Europa, perdonatemi, non sono d'accordo su questo. La vedo esattamente al contrario. La collega Onori parlava del tema dei condizionamenti russi, sono d'accordo, comprendiamo molto bene il rischio, come lei sa collega noi abbiamo approvato una legge sulla cybersicurezza, tra l'altro l'abbiamo fatto senza voti contrari, l'abbiamo fatto anche accogliendo diverse proposte che arrivavano dall'opposizione, in quella legge ci sono, differentemente da quello che veniva detto, anche le risorse, ma ovviamente siamo su questa materia sempre pronti ad altre proposte.